Buongiorno a Letizia Moratti, benvenuta, grazie di essere a questo evento veneziano del Foglio. È un debutto, mi pare, nelle nostre iniziative, quindi grazie due volte. È bello quando bisogna presentare persone come Letizia Moratti, perché non c'è niente da dire, che si fa prima, ha un curriculum di manager, di amministratrice pubblica, eccetera, che parla da solo, quindi si possono tralasciare i convenevoli. Io ho in mente di lei, soprattutto questo suo, aver sempre portato nel lavoro che ha fatto da manager, da amministratore, eccetera, questa idea di innovazione sempre, di competenza sempre, di formazione, eccetera. Io adesso, ovviamente, non vogliamo parlare, abbiamo detto, di una delle sue ultime attività che è stata la salute e l'omaggia, ormai c'è Bertolaso, sono problemi suoi. Va bene, per me mi ricordo che quando lei è entrata, era il tempo della pandemia, in questo nuovo incarico, ha usato spesso concetti e parole, come l'idea di una soluzione olistica della salute umana, che è tutto, non è soltanto le medicine, ha parlato di build back better, questa formula che dice bisogna cambiare tanto nel ricostruire, ha usato termini come innovazione tecnologica, non solo green, che sono un po' forse il suo profilo, ecco, ce ne puoi declinare un po', qual è il suo profilo, quando parliamo di innovazione, qui abbiamo, siamo alla casa della Safety Human Net. Grazie, grazie per questo invito e grazie per questo tema dell'innovazione. Io mi concentrerei sull'Europa in questo momento, perché credo che sia fondamentale capire qual è il posizionamento dell'Europa nell'ambito dell'innovazione. E devo dire che i dati che abbiamo sono dati che non premiano l'Europa, solo alcuni. Gli investimenti in ricerca in Europa sono scesi in vent'anni dal 29% al 20%, l'America è al 35%, la Cina al 31%. Gli investimenti delle imprese sono al 17% qualcosa, gli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo americane sono al 40%, la Cina ci ha superato. Quindi il tema della competitività dell'Europa è un tema, a mio avviso, ineludibile, cioè dobbiamo occuparci di capire come rendere l'Europa competitiva. Quindi scusi lei quando dice Europa sta dicendo che noi siamo esattamente europei, non c'è da distinguere che siamo italiani. L'Italia in qualche modo è penalizzata ulteriormente nell'ambito dell'innovazione della tecnologia, ha investimenti più bassi rispetto agli investimenti europei, sicuramente rispetto agli investimenti tedeschi, sicuramente rispetto agli investimenti francesi. Macron ha lanciato questo grandissimo, prima ascoltavo con grande interesse il tema delle start-up, Macron ha lanciato un incubatore che nei primi mesi ha incubato più di 6.000 imprese con investimenti importantissimi, noi siamo molto fermi su questo. Quindi diciamo che, e tocco il tema dell'innovazione, perché giustamente lei faceva riferimento al tema della sostenibilità. Sì. Allora, così come nella salute, e vado anche all'altro tema che ha toccato a lei, quando si parla di salute non si può non parlare di ambiente, quindi c'è un tema olistico, effettivamente, così quando si parla di innovazione non si può non parlare anche di sostenibilità. non può esistere una sostenibilità ambientale se non la si lega anche alla sostenibilità sociale ed economica. E per avere una sostenibilità sociale ed economica, l'innovazione, la ricerca, sviluppo e innovazione sono fondamentali. Questo è un tema rispetto al quale dobbiamo avere grande attenzione anche in relazione ai dossier europei, che in questo momento sono in esame, alcuni già approvati, altre all'esame, e che penalizzano in maniera sensibile tanti comparti nostri, che a questo punto avranno problemi nell'innovare, perché, come veniva detto giustamente prima, per innovare occorrono investimenti. Senta, ci sono queste quattro lettere magiche che dominano il PNR, scusate la R. Però l'Italia sembra quasi una fase che ne abbia paura, dobbiamo cambiare, dobbiamo fare di meno, eccetera. Invece probabilmente lei indica che questa sfida, queste risorse, che sono anche una sfida di innovazione, devono essere prese in mano innanzitutto dai privati, dalle aziende. Non si può aspettare che il governo ci faccia tutte le distribuzioni di spese, eccetera. C'è un rapporto importante tra aziende, tra impresa e innovazione? Lo stiamo usando? Sì, allora, ci sono dei segnali interessanti anche in Italia rispetto a questo. Al di là del PNRR, qui non mi soffermo, ma credo che tutti abbiamo letto l'articolo di Cottarelli, quindi il tema è semplicemente che noi dobbiamo riuscire a fare 10 miliardi di investimenti all'anno, che non sono una cosa, come dire, impossibile. Forse qui sì con un'innovazione nelle procedure e io devo dire che io mi ritrovo con la posizione che ha preso il governo sui controlli concomitanti. I controlli concomitanti non hanno senso, i controlli, se sono controlli, devono essere fatti esposti, mentre uno sta, come dire, mettendo a terra appunto l'azione, l'innovazione, eccetera. Torno alle cose invece promettenti che mi chiedeva lei rispetto all'industria. Allora, nel PNRR si sono indicate alcune linee, sicuramente importanti, cinque grandi centri di ricerca, a Padova sull'RNA, Milano sulla mobility, a Bologna sui computer, quindi a Napoli sull'agrotech e a Palermo sulla biodiversità, finanziati con 300 milioni l'uno, quindi sicuramente un passaggio importante, ma al di là di questi, forse meno conosciuti, 14 filoni di ricerca, dove, perché questi filoni di ricerca abbiano il finanziamento, devono mettere insieme risorse pubbliche, quindi università e centri di ricerca, e imprese. Quindi 14 filoni di ricerca sulle grandi sfide che vanno dall'IoT all'intelligenza artificiale, il computer quantistico, l'invecchiamento, le tecnologie della salute, e condizione per avere i finanziamenti è che le imprese facciano parte di queste iniziative. Quindi, come dire, questo, a mio avviso, è un punto importante di politica, diciamo, di politica che capisce che deve essere tenuto insieme il tema del pubblico, quindi della ricerca pubblica, con la ricerca privata, la ricerca delle imprese. E' importante perché invece siamo in un'epoca politica in cui sembra di tornare una paura verso il privato, l'impresa viene vista a volte con sospetto, eccetera, invece non bisogna avere paura di questo. Anche per stare in Europa, penso... Sì, anche per stare in Europa. Perché noi siamo poi... Prima si parlava anche di demografia, di migrazione, come fattori che decideranno il nostro futuro. Noi siamo calati in mezzo... Siamo la parte dell'Europa che ha a che vedere con questi mondi più in subbuglio. Cosa possiamo fare? C'è qualcosa che l'Italia può fare, le imprese possono fare o stanno facendo? Allora, io non... Sicuramente rispondo alla sua domanda, ma io voglio tornare sul tema dell'Europa. Perché io credo che noi dobbiamo avere più attenzione alle politiche che in questo momento si stanno portando avanti in Europa. Cito alcuni settori. Il packaging. Il packaging che per l'Italia è un settore strategico. Tra l'altro noi siamo i campioni europei dell'economia circolare. Quindi siamo i campioni europei del riciclo. Ecco, l'Europa sta andando su una posizione completamente diversa. Sta andando sul riuso. Il riuso favorisce paesi non produttori, quindi paesi, come dire, che hanno paesi nordici, paesi che non hanno una grande tradizione nella manifattura e sta creando un problema a un settore che da noi cuba miliardi. Quindi, attenzione, perché in Europa in questo momento c'è una politica anti-industriale. Quindi, io sono assolutamente una sostenitrice della sostenibilità. La sostenibilità è un must. Ci dobbiamo arrivare. Assolutamente. però attenzione a come ci arriviamo perché se poi massacriamo le nostre imprese la sostenibilità. Allora, l'Europa contribuisce l'8% alle emissioni globali. Cosa significa questo? Che o l'Europa riesce a portare avanti una politica nella quale si interfaccia anche con gli altri grandi competitor, quindi Cina, Stati Uniti e definisce una politica europea anche nel posizionamento dell'Europa rispetto alle grandi altre potenze o è destinata a sparire? Cioè, attenzione, perché abbiamo di fronte delle sfide, ne cito un'altra, ho citato il packaging, non sto sul tema automotive perché quello ormai è... ma sto su un altro tema. La proprietà intellettuale nell'ambito farmaceutico. noi stiamo distruggendo la nostra impresa farmaceutica. Basta guardare gli ultimi dati, la Cina è schizzata a una spesa e investimenti nel campo farmaceutico oncologico che è superiore ormai all'investimento europeo. Noi, con le politiche che in questo momento si stanno portando avanti in Europa in nome di una sostenibilità che alla fine ammazzerà l'Europa se andremo avanti così, stiamo distruggendo la nostra capacità di... la nostra competitività. Quindi, mi scuso, non ho forse risposto domanda, ma questo è il tema centrale. Senza buttarla in politica perché non è il caso. C'è un essere innovativi, essere per un'innovazione vera, eccetera, significa quindi essere per l'Europa, ma in questa Europa qui bisogna usare un metodo, un cacciavito, una cosa da fare, non si può essere contro l'Europa quando c'è una cosa, fare un po' i sovranisti, eccetera, ma non sapere gestire queste cose. No, 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 per carità io non sto parlando di nulla di politico, ma sto solo dicendo che, ed è stato detto nelle relazioni di prima, l'innovazione significa, non tutta, perché poi c'è l'innovazione di processo, c'è l'innovazione organizzativa, quindi ci sono tante organizzazioni, ma l'innovazione tecnologica richiede investimenti. Allora, se noi poi ammazziamo le nostre imprese, ma come pensiamo di fare innovazione? Cioè, attenzione, questo è il tema, quindi l'Europa si deve proporre, deve porsi questo tema, non è un caso che l'Europa, anche il, diciamo, il commercio high tech, negli ultimi tre anni, il commercio high tech europeo è in deficit, quindi abbiamo una bilancia del commercio high tech europea in deficit negli ultimi tre anni. attenzione, perché se no non riusciremo a fare innovazione, l'innovazione che è fondamentale, è un'innovazione che non può essere fatta senza investimenti, peraltro, lì c'è anche tutto il grande tema degli aiuti di Stato, perché gli aiuti di Stato messi, ovviamente, per creare un mercato regolato interno, europeo, con la competizione che si sta, come dire, intensificando tra Europa, Stati Uniti, Cina, Taiwan, Giappone, Corea e quant'altro, è una regolamentazione inadeguata, perché non consente all'Europa di dare quegli aiuti che l'America sta dando, che la Cina sta dando, e che sono quegli aiuti che consentono i forti investimenti anche nell'innovazione. Perfetto, senta, cambia un attimo discorso per chiudere, formazione, giovani, qualità, eccetera, è sempre stato un suo tema importante. Io, sappiamo che lei ha fondato e dirige una fondazione che si occupa di innovazione per i giovani per creare competenze in Africa. Giorgia Meloni ha parlato del piano Mattei, eccetera, lei lo sta già facendo in qualche modo, è una cosa da fare che è importante. Ci dici in tre parole che cos'è questa iniziativa? Sì, è una fondazione che in questo momento è una fondazione non profit della quale io sono fondatrice e presidente. Operiamo in 20 paesi africani, formiamo imprenditori, ne abbiamo formati con doppio titolo di master, italiano e africano, ne abbiamo formati più di 40.000, abbiamo incubato più di 500 imprese, sono imprese anche di tecnologia, per esempio c'è una bellissima impresa di un giovane ragazzo che ha assemblato una moto elettrica che funziona e che sta sul mercato, un'altra impresa che utilizza il biofuel per fare cucine, piccole cucine che ovviamente nei villaggi africani sono fondamentali, un'altra impresa che utilizza la plastica, gli scarti per fare pannelli per costruzioni, quindi la dimostrazione è che se si investe nella formazione si riesce anche a ovviamente investire in innovazione, quindi la formazione è condizione fondamentale per poter investire nell'innovazione, a mio avviso la formazione in Africa è indispensabile perché noi siamo come dire affacciati sull'Africa quindi quando diciamo che indubbiamente dobbiamo fare appunto il piano matè eccetera io credo che sia necessario è fattibile c'è il tasso di imprenditorialità dei giovani africani e delle giovani africane è straordinario ci sono degli esempi bellissimi quindi è fattibile peraltro un elemento che a me fa pensare che sia assolutamente necessario sapete quanti giovani entrano in età lavorativa in Africa ogni anno 29 milioni ogni anno a questi ragazzi la risposta lavorativa è di circa 3 milioni quindi cosa facciamo degli altri quindi è ovvio che poi dopo emigrano perché non vorranno vivere in condizioni di o emigrano o sono oggetto poi di come dire di situazioni che sicuramente non sono quelle che ci auguriamo quindi il mio è un piccolissimo contributo piccolissimo però devo dire che in questa avventura sono in ottima compagnia con Eni con Banca Intesa con Coldiretti con Figlieri Italia quindi con grandi gruppi che ci credono è un piccolissimo contributo ma io credo che sia bello parlare anche di innovazione in continenti dove si può pensare che l'innovazione non ci sia ma non è così l'innovazione c'è anche lì e diventa anche capitale umano e sociale quindi abbiamo detto anche qualcosa sull'immigrazione del tema del giorno in Italia e possiamo concludere dicendo si può fare direi la ringrazio grazie a Letizia Moratti grazie